Presentata questa mattina nella sala consigliare del comune di Montesilvano, l'iniziativa Parliamone Insieme, un approccio diverso per affrontare con i bambini delle scuole primarie il problema della celiachia. Mangiare, alimentarsi non è solo una questione di mangiare appunto, ma ha tutto un mondo dietro. Pensiamo ai compleanni, alle feste di lavoro, i pranzi delle domeniche, insomma sono tutta una serie di situazioni in cui l'alimentazione ha una valenza di ordine sociale e relazionale, quindi un bimbo che ha una problematica regata alla celiachia si può trovare in determinati contesti a sentirsi isolato e diverso dagli altri. L'obiettivo del progetto è quello di dar voce, da un punto di vista psicologico, è quello di dar voce al vissuto emotivo del bambino e del genitore che segue il proprio bimbo ed aiutare gli insegnanti nel gestire un bimbo con celiachia in classe, quindi poterli offrire dei piccoli strumenti che loro nella quotidianità possono utilizzare. In questa iniziativa ci sarà anche una particolarità simpatica, una favola letta da una bambina proprio celiaca. Esattamente con le parole di una bimba di 4 anni che viene spiegata la celiachia ad altri bambini e nella parte iniziale c'è proprio una favola dove attraverso questa favola viene spiegato agli altri bambini come è nato questo progetto e cosa si farà all'interno del progetto. In questa iniziativa ci sarà da divertirsi, andremo nelle scuole elementari e materne di Montesilvano, Cappello e Spoltore, farò pasticciare i bimbi, farò conoscere le farine diverse dalle tradizionali e farò vedere com'è facile mangiare tutti insieme, gli intolleranti, i bimbi invece che non hanno problemi, i celiaci, insomma unire la tavola, questo faremo nelle scuole. Si è parlato troppo di queste cose senza mai fare niente o fare poco o fare solo il punto di vista medico, non che non sia importante, ma il punto di vista pratico si è dimenticato. Noi quello vogliamo fare, parlarne ed agire dentro alle scuole, dentro al problema, appunto per evitare questa passiva ghettizzazione che hanno soprattutto i bambini colpiti da questo problema.